Dal territorio di Castrum Truentinum provengono diverse iscrizioni. Si tratta di epigrafi di carattere per lo più funerario, che ci raccontano qualcosa dei personaggi vissuti in questa zona in epoca romana. Da questi documenti emerge la presenza di un commerciante di porpora, ma anche di un architetto. Oltre alle epigrafi funerarie provenienti dal territorio, è nota un'importantissima iscrizione rinvenuta nel 1991 durante gli scavi in località Caseferiozzi. Si tratta di una lastra di marmo frammentaria redatta con i caratteri tipici della scrittura tardoantica, che riporta su due righe delle lettere, in cui riconosciamo K nella prima riga e R nella seconda riga. Sembra plausibile che si tratti della menzione della città di Castrum Truentinum.